San Paolo per non chiudere le porte ai sogni di una città, di una squadra, il Napoli di nuovo in testa della classifica contro una regina che ha ritrovato invece la vittoria in campionato e si presenta qui al San Paolo per fare bella figura e naturalmente per fare punti Denis dentro per Amsic, cerca ancora la sponda, Denis, Denis! Il sogno continuo del Napoli, con Denis il primo gol in campionato al San Paolo per l'Argentino, 1-0 per gli azzurri Attenzione, la Vezzi per Amsic, la posizione regolare, Amsic, Denis, ancora Denis per un Napoli bellissimo di notte, 2-0, doppietta per l'Argentino, Amsic Poi tocca per la Vezzi, parte la Vezzi, Campagnolo, azione ancora buona Denis la rimette in mezzo, allontana Barillà, ancora il Napoli, ancora con la Vezzi che tenta la conclusione, guadagna un angolo Amsic ancora per Denis, arriva la Vezzi, la conclusione, maggio, fuori gioco Ancora la Vezzi, Amsic, Amsic in area di rigore, Amsic all'indietro ancora per la Vezzi si salva la Regina, poi scivola al limite Barreto, prova Gargano, c'è una respinta, l'azione è buona L'Avezzi, Campagnolo, Campagnolo, salva la Regina L'Avezzi, parte da lontano, parte in dribbling, ne salta uno, ne salta due Il cross per l'inserimento di Mannini, prova a calciare Mannini, esterno della rete 4 contro 1, c'è la Vezzi dalla porta opposta, Maggio insiste, il cross dentro, ancora Denis Un messaggio a Maradona, da parte di Denis, è al campionato e il Napoli resta capolista, 3 a 0 A maggio ancora Denis, c'è il salvataggio di Lanzaro che è l'ultimo a mollare in difesa Va al cross per Rakic, esce Navarro, esce Navarro che fa dunque la prima parata della serata Islandese punta ai suoi avversari, mette il pallone lì dove arriva Rakic Con un attimo di ritardo alla deviazione vincente Finisce, 3 a 0 per il Napoli, un Napoli che si conferma dunque capolista del campionato Vince da spettacolo contro una Regina che nulla ha potuto davvero, contro un Napoli perfetto È una vittoria importante perché è arrivata con una squadra, con una piccola, poi siete grandi con le grandi Dovevate dimostrare per la prima volta di fare la differenza anche quando siete dati favoriti Questo è un set importante che è dato al campionato Sì è vero questo, l'anno scorso abbiamo trovato difficoltà per vincere così, per fortuna oggi abbiamo vinto e veramente siamo contenti Senti abbiamo visto tre gol di Denis, insomma tuo grande amico è un Napoli che sta crescendo nel segno dell'Argentina Maradona CT dell'Argentina è una dedica, vuoi fare una dedica anche a lui? No, questa è una dedica per tutta la gente che sta con noi e per tutta la squadra